Cari fratelli e sorelle nerazzurre, sono sempre Don Gigi Inter. Allora, siccome settimana scorsa, ahimè, la nostra amata Inter ha perso il derby, è vero che il Milan non vinceva un derby dal 2017 in Coppa Italia, addirittura dal gennaio 2016 in campionato, quindi erano più di quattro anni, quasi cinque anni che non vincevano un derby, si poteva anche soprassedere, ogni tanto è giusto che vincano anche loro. Però mi ero un attimino non arrabbiato con il Signore, perché capisco che anche Lui non può metterci sempre la buona parola, deve osservare, aiutare nel minimo, perché se no, capite, c'è imparzialità, Lui deve cercare di essere imparziale. Poi è logico, quando c'è il Milan, magari è un attimino meno parziale, anzi imparziale, scusate, proprio perché un diavolo non è che gli può stare tanto simpatico. Però stavo vedendo questo libricino, qui vedete Giovanni Paolo II, e mi è arrivata la vocina proprio del nostro Santo Padre che diceva, figliuolo, devi capire che il nostro Signore ogni tanto deve fare delle piccole eccezioni, quindi accetta questa sconfitta e preparati alla rivincita. Quindi mi ha fatto capire tante cose. Detto questo, cari fratelli e sorelle Nerazzurre, oggi c'è Genova Inter, alle 18, come al solito, mi fanno impazzire con questi orari. Speriamo che io e Don Cherubino riusciamo a essere prima della partita online, perché settimana scorsa il video di Don Cherubino è uscito quando ormai avevamo già perso il verbo. Il mio è uscito per tempo, ma se non usciamo prima della partita tutte e due, ogni tanto succede anche lì il patatrac. Ma la colpa non è mica nostra, è sempre colpa dei nostri cari cricettini che non si danno mai una mossa ogni tanto. Ultimamente sono abbastanza veloci. Non faccio in tempo a dire che sono abbastanza veloci che si rallentano. Staremo a vedere nella giornata di sabato come andrà. Tanto i video che si dovevano caricare si stanno caricando quasi tutti, ma bando alle ciance, cari fratelli e sorelle Nerazzurre, pensiamo alla nostra Inter. Andiamo a vedere la teorica formazione, così possiamo fare la pregherina al Signore. Per ogni singolo giocatore. Quindi, come sempre, prima di iniziare la lettera, tra virgolette, perché ormai non faccio più una lettera, guardo semplicemente la formazione e faccio delle preghiere, delle richieste su misura al Signore, nella speranza che dia una mano ai singoli giocatori che ne hanno tanto bisogno. Quindi togliamoci, come sempre, il cappello, mostriamo la scarsa crinitura, se mi passate il termine, cari fratelli e sorelle Nerazzurre, di scarsa crinitura, e andiamo a pregare per i nostri giocatori, che appunto dovrebbero essere in campo oggi alle 18, Covid permettendo. Perché non si sa mai che facciano qualche tampone al pomeriggio e viene fuori che sono positivi, come è successo già in Champions League al nostro Hakimi, che adesso è negativo, adesso rifarà il tampone, magari già mercoledì ce l'abbiamo in campo contro lo Shakhtar, sarebbe molto, molto importante. Comunque pensiamo alla partita con il Genoa e andiamo a vedere la formazione. Quindi una preghiera la vogliamo fare al Signore, naturalmente, per Andanovic. Perché è vero che settimana scorsa ha parato un rigore dopo 24 giornate più o meno? No, 23 giornate, perché ha parato all'ultima di campionato dell'anno scorso con l'Atalanta un rigore, poi sono passate altre 19 giornate, altre 4 giornate, dopo 23 giornate ha parato un altro rigore, inutile perché, ahimè, la palla è rimasta lì e il Signor Ibra l'ha messa dentro. Quindi facciamo una preghierina al Signore per Andanovic affinché oggi riesca a mantenere la porta inviolata visto che sta prendendo una media di due gol a partita e non è bello. Abbiamo preso 8 gol, non è bello. Si pensava che con la nuova difesa avremmo avuto tanti clean sheet e invece dobbiamo tornare al periodo di Spalletti, l'ultimo anno di Spalletti in cui Andanovic riuscì a mantenere per 19 partite su 38, se non ricordo male, ma forse anche di più la sua porta inviolata. L'anno scorso e quest'anno è andata un po' meno bene, anzi, l'anno scorso. Quest'anno si vedrà magari da qua in poi, da qua alla fine del Gerone di Andata su 15 partite che mancano, 8 volte rimane clean sheet, sarebbe tanta roba. Quindi speriamo, preghiamo il Signore affinché Andanovic non prenda gol almeno contro il Genova, non dico tanto, ma almeno contro il Genova. Veniamo alla difesa, una preghierina la vorrei fare per la copiata vincente d'Ambrosio Bastoni. Preghiamo il Signore affinché non facciano errori, siano precisi, perfetti, non commettano errori di nessun tipo, blocchino gli avversari, non costringano Andanovic a fare gli straordinari, eccetera, eccetera, eccetera. Visto che giochiamo con il Genova che, ahimè, tra noi e loro abbiamo fuori 11 ne hanno fuori loro, 5 ne dovremmo, 16 giocatori in due squadre fuori per Covid o infortuni vari. E non è bello, quindi speriamo in bene domani di non prendere gol e che i due esterni, diciamo, di difesa insieme a De Vrij, il trio Lescano, ma soprattutto loro due, D'Ambrosio e Bastoni, facciano bene. Un'altra preghierina la voglio fare, invece, per Ivan Perisic, che ahimè, è sempre al centro delle polemiche dei tifosi nerazzurri che non lo vogliono vedere. Francamente, cari fratelli e sorelle nerazzurri, a me settimana scorsa col Milan è piaciuto, con anche Borussia, Mönchengblaba, non mi è dispiaciuto, ha fatto dei buoni cross, delle belle azioni, è riuscito finalmente a mettere dei palloni belli in mezzo, senza che finissero sempre addosso al difensore. Quindi, francamente, a me Perisic è piaciuto, però preghiamo il Signore che gli faccia fare un gol e un assist, così almeno, magari una volta tanto, dicono oggi Perisic è piaciuto, perché tutte queste critiche a me non sono piaciute. Quindi preghiamo il Signore, ecco, nella sua infinita bontà. Veniamo al centrocampo e una preghiera la dobbiamo fare per mammoletta Ericsson, perché entra sempre in campo sulle punte, sembra la ballerina che entra sulle punte, quindi preghiamo al Signore che gli dia un attimino più di ovo maltina, come si diceva una volta, un po' di stimola, per intenderci, un po' di cazzimma, e non che sia sempre moscio, unbroscio e smoscio, perché francamente non se ne può più. Quindi, cari fratelli e sorelle Nera Azzurro, una preghierina per il nostro Ericsson, ci vuole, vero Signore, che una manina ce la dai? Grazie Signore. E concludiamo, cari fratelli e sorelle Nera Azzurro, per la nostra Lula, la nostra coppiata vincente, che teoricamente non avrebbe bisogno di grandi aiuti, però, se uno sguardino dal cielo il Signore lo dà, gli permette di fare da qua in poi, per parecchie partite, un gol per uno, che non fa male a nessuno, sarebbe una cosa molto molto bella. Bene, cari fratelli e sorelle Nera Azzurre, io concludo qua la mia letterina al Signore, veloce, veloce, da leccarsi le orecchie, e andiamo invece a dire la preghierina che nostro Signore ormai più di duemila anni fa ci aveva lasciato il Padre Nostro e che io modestamente e Don Mario Inter che ormai è cardinale, quasi vescovo e tra un po' va a sostituire Bergoglio al suo posto, abbiamo rifatto per la nostra amata Inter, più che altro la sto rifacendo io e lui ormai il personaggio, se l'è quasi dimenticato di Don Mario in anzi del cardinale, c'era il cardinale Riccioglie, c'è il cardinale Mario Inter. Comunque andiamo a leggere la preghierina Padre Nostro Inter che sei nei cieli nerazzurri, sia santificato il tuo nome e venga al tuo regno e fai tornare possibilmente anche quello dell'Inter, se poi fosse come nel 2009 e 2010 sarebbe molto bello ma va bene anche uno simile, sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra ma soprattutto fai vincere l'Inter, soprattutto scusa nella ripetizione perché abbiamo perso il derby e abbiamo tra l'altro anche pareggiato in Champions League quindi è cosa buona e giusta tornare a vincere. Dacci oggi la nostra vittoria settimanale rimettiano i nostri tre punti come noi li rimettiamo alla nostra classifica in modo da non perdere terreno dai cugini e dalle altre squadre che ci sopravanzano ma soprattutto per cancellare sin da subito lo scontento del popolo nerazzurro dopo le due deludenti partite precedenti anche se più per il risultato che per il gioco e visto anche l'impegno messo in campo dalla squadra e le occasioni che si sono sprecate come ci sta capitando un po' troppo spesso non ci indurre in Serie B ma liberaci dalla sconfitta contro il Genova e anche dal pareggio perché come dicevo prima è cosa buona e giusta tornare a vincere Amen Bene cari fratelli e sorelle nerazzurro il nostro momento di raccoglimento è terminato potete andare in pace vi mando la mia benedizione ma prima di andare in pace volevo rinnovarvi il consiglio che vi sto dando ormai da un paio d'anni o anche più e che funziona sempre ed è sempre utile tra l'altro vedendo le ultime vicissitudine della nostra amata Inter ne abbiamo tutti veramente bisogno anche perché sto vedendo che c'è troppo malcontento e troppa negatività siamo solo a quattro giornate dall'inizio del campionato ne sono successe di ogni a causa del covid che ci continua a togliere un sacco di giocatori e come rientra qualcuno se lo prende qualcun altro e invece di capire la situazione stare vicini alla squadra e soprattutto al tecnico che l'anno scorso al primo anno ve lo ricordo ha già fatto quasi il miglior campionato degli ultimi anni post triplete perché l'ultimo campionato in cui abbiamo vinto qualcosa è stata una Coppa Italia e penso che una finale di Europa League tra l'altro persa di sfortuna perché l'abbiamo vista tutti la partita con troppi errori sotto porta nostri possa più o meno valere una vittoria in Coppa Italia un secondo post in campionato che più o meno era lo stesso del campionato 2011 e nel 2011 se non erro siamo usciti nei quarti in Coppa dei Campioni eliminati malamente dallo Schalke 04 quindi direi che più o meno siamo lì in ogni caso vi riscrivo il piccolo suggerimento per evitare di fronte ad errori dei nostri giocatori sconfitte stupide e ignobili per sfortune varie errori individuali o per orrori arbitrali di inveire o dire parole sconvenienti e di usare nuovamente il metodo di padre Pedro Aglias ma Spencer imporgi l'altra guancia che ormai dovresti aver imparato a memoria ma ripetita Juvent non stressan San Camillo San Camillo fammi stare un po' tranquillo San Tommaso San Tommaso or mi viene la mosca al naso San Clemente San Clemente fa che sia molto paziente che se perdo la pazienza devo fare penitenza bene cari fratelli e sorelle nell'azzurro e con questo concludo la nostra solita diciamo il nostro solito incontro settimanale e vi aspetto la settimana prossima Amen Amen